Musica Cari amici e cari amiche di Angoli, ben ritrovati come sempre. Vogliamo partire con un tema tristemente d'attualità, ancora una volta la cronaca ci racconta di ciclisti che perdono la loro vita sulla strada e recentemente sono quasi definiti delle vittime invisibili perché proprio l'ultimo fatto riporta un camion che per conto dell'angolo cieco non può vedere comunque il ciclista e questo causa. Ciò che accade ancora una volta quindi l'appello è quello alla sicurezza e al rispetto e parliamo di tutto questo con il mio primo ospite. Io saluto e ringrazio Antonio Cortese che ogni tanto arriva qui ad Angoli, è davvero un grande piacere. Ciao Antonio, ben ritrovato. Ciao, piacere mio, anzi vi ringrazio. Il tema è chiaramente di attualità, oggi più che mai ed è di vitale importanza. Appunto il rispetto del ciclista, il rispetto della sicurezza stradale è uno di questi impegni che io mi sono preso e in cui ci metto la faccia con l'associazione Io rispetto il ciclista che è stata fondata da Maurizio Fondrias, da Paola Gianotti e da Marco Cavorso. Questa associazione appunto ha lo scopo, l'obiettivo, nasce con lo scopo e l'obiettivo di poter creare una sorta di visibilità del ciclista sulle strade. Cosa significa? Significa che la strada è di tutti evidentemente, quindi bisogna anche avere rispetto e capire che l'utenza debole ovviamente è il ciclista o il pedone che sia per cui il comportamento in macchina o con i mezzi pesanti deve essere un comportamento rispettoso ed attento. Tu Antonio come hai detto sei un grande appassionato di ciclismo, questo ti porta, ti ha portato anche a tappe importanti, a sfide con te stesso anche a imprese dedicate per esempio al grande amatissimo Marco Pantani e ora come hai detto bene sposi questa causa a braccetto con queste associazioni e anche proprio in questi giorni appena trascorsi ti sei messo proprio in gioco, in gara diciamo così e in questa tappa hai indossato una maglietta che hai anche lì vicino a te che porta molto bene in evidenza questo logo, vogliamo mostrarlo anche agli amici a casa. Sì questa è la maglia, questa è stata realizzata con il logo dell'associazione ciclisti professionisti italiani, questo logo sta proprio ad indicare il metro e mezzo di distanza che è appunto quella distanza che è stata valutata come sicurezza durante il sorpasso di un'auto o di un mezzo pesante nei confronti appunto del ciclista. Ora effettivamente a parer tuo che sei sul campo non sempre è possibile rispettare questo metro e mezzo quindi bisogna avere coscienza di questo fatto avere proprio un rispetto reciproco, attendere il momento per far sì che nessuno possa correre il rischio addirittura di perdere la vita. Assolutamente, ho detto la parola magica, attendere. Allora noi quando abbiamo davanti un mezzo tipo un motorino e non è una bicicletta quindi è un po' più consistente e siamo in macchina, non è che gli facciamo il filo, ci passiamo 5 centimetri, aspettiamo, attendiamo un momento propizio, mettiamo la freccia e sorpassiamo. È chiaro che se possiamo mantenere il metro di distanza ben venga, se non possiamo attenderemo 10 secondi o 5 secondi persi, non cambiano nulla, cambia parecchio se uccidiamo una persona perché si parla di omicidio evidentemente. Naturalmente sì e poi in ogni caso io voglio spezzare una lancia per entrambe le parti coinvolte, anche un'automobilista che si trova a vivere questa drammatica situazione naturalmente non può superarla in maniera indelebile e quindi è davvero un invito alla prudenza da parte di tutti quanti. L'episodio che ho ricordato in apertura ovvero questo incidente, questi incidenti che vedono i camion che hanno purtroppo recentemente almeno un paio di volte investito dei pedoni nella grande Milano, quindi la città vicinissima a noi, dimostrano anche in questo caso che i camion non sono dotati di sensori in questo momento che possano, non tutti perlomeno, mettere in evidenza appunto, segnalare all'angolo cieco la presenza di un ciclista. L'Europa vuole fare qualche cosa in merito, speriamo. Speriamo che i tempi che sono lunghissimi per ora siano veramente accorciati e brevi in modo tale da garantire anche a chi sta guidando un mezzo pesante di potersi tutelare e di rispettare evidentemente una certa distanza perché altrimenti anche come nell'ultimo caso pare che questo povero camionista non potesse farci nulla perché non l'ha visto. Quindi la tecnologia potrebbe arrivare a sostegno di questa cosa. Io quindi saluto e ringrazio Antonio Cortese per essere ancora una volta stato mio ospite per sensibilizzare tutti quanti nei confronti della sicurezza e nel rispetto dei ciclisti. Grazie Antonio, a presto. A te, grazie, a presto. Sta per iniziare una nuova stagione concertistica, ne parliamo tra qualche secondo, rimanete con me. E torna a trovarmi il vicepresidente della filarmonica Ettore Pozzoli, Mauro Bernasconi. Mauro, ben ritrovato. Grazie. Finalmente. E dai, ogni tanto un appuntamento annuale per fare quattro chiacchiere è sempre un piacere. E in questa occasione ci sono ben due momenti che vogliamo ricordare ai nostri amici a casa per i quali tra l'altro Espansione TV è anche Media Partner, quindi a maggior ragione ne parliamo. Ci sono due date importanti, vicinissime, con due momenti musicali importantissimi. Mauro, se sei d'accordo partiamo dal 12 maggio, Teatro Manzoni Monza. Cosa succede? Allora, al Teatro Manzoni Monza nel nostro cartellone abbiamo come proposta una gran galà dell'opera dove i protagonisti saranno dei giovani cantanti selezionati da tutto il mondo, Portogallo, Spagna, Kosovo, quindi Giappone, 12 cantanti giovani molto 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 bravi che hanno fatto per un anno una masterclass con Carmen Santoro che è stata la loro, come si dice oggi, vocal coach, in realtà una bravissima preparatrice a livello internazionale di voci. Quindi diciamo una grande occasione artistica per loro. Anche perché hanno incontrato in questo anno personaggi famosissimi come direttori artistici di teatro piuttosto che grandi cantanti che sono stati per loro una guida nel muoversi in questo mondo. Loro sono molto bravi per cui questo concerto sarà un po' a chiusura di tutto quello che è stato il loro percorso e devo dire che il risultato è notevole. E quindi sarà una bellissima occasione per tutto il pubblico, lo ricordiamo, al Teatro Manzoni di Monza il 12 di maggio alle ore 21, questa possibilità davvero di ascoltare grandi talenti e di condividere delle bellissime emozioni. Ecco qua l'immagine che ce lo ricorda. Ma non è tutto, è stato più volte ospite anche da noi. Sì, ormai Luca Ballabi, il maestro Luca Ballabi, pur giovane che è, è ormai un direttore che incomincia a dire la sua sul palcoscenico nazionale e internazionale per cui noi siamo orgogliosi di avere un giovane direttore così bravo e preparato. Una bella collaborazione naturalmente. Poi arriva un altro momento invece di grande musica, pochi giorni dopo siamo al 14 di maggio, questa volta al Teatro San Rocco a Seregno, nel pomeriggio alle 17.30. Che cosa succede? Ma abbiamo pensato come filarmonica Ettore Pozzoli di creare dei momenti dedicati alle famiglie, quindi degli eventi dove possono partecipare bambini, genitori e godere anche di quello che può essere la musica dedicata a loro. e quindi proponiamo un musical di Pinocchio con le musiche dei Pooh, quindi una versione molto importante, molto bella. Molto bella, le musiche sono meravigliose e proprio adatte a quello che può essere un bel pomeriggio in famiglia. Oltretutto proprio, e la Locandina ce lo ricorda, c'è un progetto vero e proprio, l'hai un po' accennato, ma io te ne chiedo un breve approfondimento, cioè questo family show è probabilmente, come tu hai detto, un modo per avvicinarsi alle famiglie, o meglio per far sì che le famiglie si avvicinino alla musica. Com'è che vi è venuta questa idea? Ma allora, diciamo che il pubblico deve essere ringiovanito. È da un po' di anni che c'è un po' questa problematica nei teatri, no? Cioè portare i giovani e noi crediamo, come credono in tanti, che iniziare da bambini a frequentare un teatro, respirare quell'aria lì, respirare proprio il palcoscenico che si vede, la musica dal vivo, possa essere un piccolo imprinting che poi, crescendo, non può che essere coltivato. E poi è un aspetto educativo molto importante, perché attraverso la musica cresce la sensibilità nei confronti degli altri, si interiorizzano meglio le emozioni e quindi è assolutamente un bellissimo progetto. Ascoltare musica e soprattutto fare musica crea veramente una formazione nei bambini, nei ragazzi, che non c'è niente da fare, ti fanno diventare una persona diversa, una sensibilità diversa. Sono assolutamente d'accordo e tu lo sai bene, allora ricordiamo questi due appuntamenti, il 12 maggio al Teatro Manzoni di Monza alle ore 21, parte questa nuova stagione con i grandi concerti, ecco qua la Locandina con Luca in primo piano, che è un vanto per tutti quanti, anche per noi che l'abbiamo avuto ospite, e immediatamente a seguire invece il 14 maggio al Teatro San Rocco, a Seregno, questa volta nel pomeriggio, un'occasione di condivisione con le famiglie. Grazie a Mauro Bernasconi e alla filarmonica Ettore Pozzoli. A presto. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie anche a voi, c'è una breve pausa, rimanete lì, tra poco di nuovo ad Angoli. Grazie a voi.